Piazza il C4! Presto! C4 piazzato! Arriva il convoglio! Pronto? Ciao Jason, sono Lisa. Sono occupato, che c'è? Volevo solo dirti che la barca è quasi pronta. Quando è che torni? Non lo so. Ma torni, vero? Sì! Ok, a presto allora. Loro non capisco. Non sono dei pirati. Non mi sembrano quelli di Vaz. Oh, Cristo! Che cazzo sono questi? Mi sembrano organizzati. Soldati o qualcosa di simile. Maura! Siamo superiori, ragazzo! Siamo uniti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Sono qui. Grazie a tutti.